lunedì 30 maggio 2022 ben trovati alla rassegna stampa di fano tv e questa mattina apriremo con una notizia di sport perché ovviamente il fano salvo ha destato l'entusiasmo di tutti i fanesi ne parleremo dopo aver così consultato il libro dei santi e troviamo oggi nel libro dei santi un nuovo un altro santo francese abbiamo visti diversi e nei questi giorni ma questo è un santo molto molto noto santa giovanna d'arco santa giovanna d'arco liberò la francia dagli inglesi che assediavano orleans a reims fece incoronare re carlo settimo ma purtroppo perse l'ultima battaglia tradita si dice da alcuni generali invidiosi fu fatta prigioniera e condannata nel corso di un processo oggi considerato come una delle più abominevoli ingiustizie commesse contro una innocente fu infatti condannata a rogo come eretica recidiva apostata e idolatra veramente un'azione turpe compiuta allora dalla chiesa che ovviamente contraddiceva quella che erano gli insegnamenti evangelici il sole questa mattina sorge alle 5 e 27 tramonterà alle 20 e 42 anzi dobbiamo dire che è sorto alle 5 e 27 e tramonterà alle 20 e 42 e vediamo quindi le condizioni del tempo il tempo si mantiene perturbato su tutta la regione abbiamo le nuvole invece del cielo azzurro e vediamo come però nel corso della giornata le condizioni miglioreranno con un tempo prevalentemente stabile e asciutto salvo più nubi e acquazzoni sui rilievi i venti sulle coste da una direzione di est e sud est nell'introterra dalla stessa direzione sempre est e sud est e temperature tra i 16 e i 23 gradi una temperatura più umite rispetto a quella dei giorni scorsi comunque questa perturbazione è un fatto episodico perché nei prossimi giorni tornerà la calura tornerà l'alta pressione e quindi torneranno le temperature molto molto calde oltre i 30 gradi temperature prettamente estive e quindi vediamo i titoli sui giornali per quanto riguarda lo sport vediamo il resto del carlino prodezza di casolla fanno in salvo castello la retrocessione sa di beffa ovviamente piange il castelfidardo comunque la partita si è conclusa uno a uno un risultato che bastava tuttavia al fanno per salvarsi in serie d ospiti in vantaggio nel primo tempo terrore per quanto riguarda gli spalti del mancini poi però i granata reagiscono errera sbaglia addirittura un rigore quello del pari ma al novantesimo l'attaccante un po acciaccato segna in mezza rovesciata poi ai supplementari il risultato non cambia dunque casolla salva il fanno e spedisce il castelfidardo in eccellenza il goleador granata non doveva giocare per fortuna ha giocato a inizio recupero ha pareggiato il vantaggio dei fidardensi firmato da fermani al diciannovesimo mandando il play out ai supplementari dove l'alma con estrema sofferenza ha conservato quell'uno a uno che ha guadagnato e che gli garantisce la salvezza questo sull'arresto del carlino vediamo il corriere adriatico fanno salvo castelfidardo giù una magia al novantesimo di casolla regala la salvezza a granata dopo un rigore fallito ai supplementari i biancoverdi in vantaggio nel primo tempo con fermani i giocatori del castelfidardo e poi ripresi retrocedono in eccellenza abbiamo fatto l'impresa ha commentato il tecnico granata catalano il quale può ripercorrere le tappe di una salvezza davvero davvero molto sofferta i ragazzi hanno fatto il massimo nelle tantissime difficoltà che abbiamo incontrato invece piccioni amaro quella bandierina non si è alzata il tecnico del castelfidardo e il gol del fano commenta molto molto dispiaciuto per quanto è avvenuto forse al novantesimo l'assistente non se l'è sentita ha detto insomma sembrava che fosse un fuorigioco ma il guardaline non l'ha segnalato questa società meriterebbe un po più di rispetto ha dichiarato piccioni purtroppo il castelfidardo scenderà in eccellenza e questo per quanto riguarda lo sport ora diamo un'occhiata anche alle altre notizie a partire dalla pagina di fano del corriere adriatico e vediamo come l'apertura in questo caso riguarda la città da giocare che si è svolta nella giornata di ieri in viale gramsci viale gramsci chiusa al traffico una delle vie principali dove scorre la statale adriatica si voleva fare più non dico danno possibile si voleva però creare più problemi possibili per evidenziare come la città dedica uno spazio importante ai più piccoli è un segno significativo dei fano la città dei bambini ormai si ripete da diverso tempo ma che si moltiplica poi rimbalza in altre occasioni per esempio giovedì prossimo il 2 giugno ci sarà la festa dei bambini a santosso e poi il 4 del 5 il carnevale dei bambini in centro storico i bambini diventano sempre più protagonisti delle manifestazioni e degli eventi della città la meraviglia della adriatica trasformata in parco giochi e ieri nonostante la pioggia nonostante il tempo incerto la città da giocare ha regalato un pomeriggio da favola a centinaia e centinaia di bambini con le loro famiglie sono stati coinvolti in giochi di carattere sportivo poi ancora di carattere didattico come la lezione effettuata dalla stessa comandante della polizia municipale a narita montagna ai bambini per quanto riguarda la segnaletica stradale oppure come le iniziative di carattere ambientale del circolo didattico di san lazzaro la scuola la scuola corridoni che ha distribuito delle piantine ai bambini sono piantine un po che fanno comodo in tutte le famiglie pomodoro salvia basilico presente anche la musica con elisa rodolfi al pincio che ha invitato i bambini a seguirla con le percussioni e poi c'erano anche altri operatori come stefania carboni come il direttore del coro una scuola tra le note insomma c'erano diversi esponenti che invitavano i bambini a giocare quest'ultimi non se la sono fatta pregare insomma hanno girovagato di qua e di là frastornati da tante occasioni di divertimento è stata veramente una bella iniziativa che ha così permesso a tante famiglie di passare un pomeriggio allegro in città al di fuori dei pensieri invece era probabilmente immerso nei pensieri l'automobilista che ha compiuto un incidente alle 8 e 45 di ieri mattina a bordo di una bmw che ha invaso l'altra corsia a metauriglia e si è scagliato contro un cassonetto di un giardino per fortuna nessun ferito comunque la tragedia si è sfiorata sulla statale adriatica intorno alle 8 e 45 nel tratto tra metauriglia di fano una bmw m1 ormai senza controllo ha invaso la corsia opposta e ha terminato la sua corsa urtando i contenitori di un'isola ecologica forse un colpo di sonno e ieri si è svolto anche il congresso della lega la lega ha nominato il suo segretario il suo segretario si tratta di alessandro brandoni e paolini presenta un ricorso in questo in questa assemblea si sono confrontate due liste diciamo così due tendenze due correnti una quella che fa capo a carloni e il vice presidente della regione marche mirko carloni e l'altra che faceva capo a luca rodolfo paolini che è onorevole e a luca serfilippi che è consigliere regionale ebbene a vincere è stata la lista di carloni che ha eletto alessandro brandoni segretario mentre le proposte di dell'altra lista non ci sono state perché avendo già subodorato come sarebbe andata a finire la lista concorrente non si è presentata cioè è uscita e non ha votato alessandro brandoni dunque è stato proclamato nuovo segretario della lega di fano ieri mattina durante il congresso comunale che si è svolto nella sede della lega in via garibaldi intendo essere il segretario di tutti ha detto brandoni al termine dell'assemblea manifestando con le sue parole di volere sfumare le tensioni che hanno proceduto che hanno preceduto l'assemblea del partito locale tensioni che però hanno motivato luca rodolfo paolini a presentare un ricorso insomma ci sono state delle irregolarità secondo l'onorevole e quindi ha presentato ricorso al commissario regionale della lega e addirittura anche al segretario nazionale a salvini lega brandoni comunque il segretario e paolini presenta ricorso questo per quanto riguarda la pagina di fano vediamo ora la val cesano con san lorenzo in campo tira il turismo dei matrimoni per il sì dalla svezia al tiberini addirittura ebbene sono sempre più le coppie straniere che scelgono la bellezza delle marche per il fatidico sì matrimoni che si celebrano in località meravigliose come ville palazzi castelli o come nel caso di san lorenzo in campo nella splendida cornice dell'ottocentesco teatro comunale il teatro tiberini nella bomboniera all'interno del palazzo della rovere si è sposata una coppia proveniente dalla svezia dalla capitale stoccolma a celebrare il rito il sindaco davide dell'onti a san costanzo invece euforia doppia per lo sport il volley femminile sale in serie c una bella promozione e il calcio è promosso in promozione sale di categoria vediamo le altre notizie sul della dalla regione aripe di san ginesio uno schianto shock per evitare un istrice un camionista va fuori strada e purtroppo muore è finito con l'auto contro una pianta aripe di san ginesio la vittima è moreno mochi aveva appena 42 anni l'uomo era originario di loro piceno e viveva a durbisaglia oggi si darà l'ultimo saluto appunto la camera ardente è stata allestita nella casa funeraria pietas in via picena a passo di ripe a san ginesio dove in molti si sono recati per stringersi attorno alla famiglia per questo improvviso lutto e la cronaca purtroppo ci manifesta ci evidenzia un altro lutto si spara un colpo di pistola in testa un poliziotto trovato morto nell'auto sciocca a capodarco la vittima aveva 50 anni viveva a lido san tommaso e lavorava a senigallia l'allarme alle nove l'ultima tappa in un bar che era un collega tendiamo troppo spesso a nascondere l'ansia che è un male purtroppo diffuso specialmente chi vive una vita molto convulsa come quello che caratterizza molte persone che fanno parte delle porte dell'ordine giriamo la pagina diamo un'occhiata anche alla pagina del primo piano marche dove vediamo lavori pubblici che interessano la viabilità salaria orte falconara e porti quasi 7 miliardi per le marche è un grasso che cola per realizzare completare diversi lavori pubblici che al momento languano e rimangono incompiuti l'elenco delle opere e dei fondi nel documento economico del ministero delle infrastrutture e appare anche la fano grosseto ecco lo vediamo qua in questa tabella fano grosseto il tratto marchigiano adeguamento a due corsie della galleria della guinza il secondo lotto del tratto guinza mercatello il terzo lotto sono un adeguamento a due corsie però vediamo che poi la conferenza dei servizi ha ribaltato il progetto approvando quello che insomma trasforma questa idea in quattro corsie invece di due vediamo le cifre disponibili 90 milioni il costo totale 86 milioni sono le risorse disponibili manca ancora qualcosa 4 milioni e l'ulteriore fa bisogno del tratto della variante di urbani a 130 milioni il costo totale 8 milioni solo sono le risorse disponibili e qui ne mancano molti di più 122 milioni e l'ulteriore fa bisogno per il tratto mercatello sul metauro ovest mercatello sul metauro est il costo è di 100 milioni e qui ne mancano 96,2 e invece del tratto mercatello sul metauro est santo stefano di gauta di gaifa 260 milioni è il costo e qui non c'è un centesimo mancano tutte le risorse insomma ci vorranno ulteriori ulteriori finanziamenti per realizzare queste opere per fortuna arrivano nelle marche 7 miliardi è veramente una manna fanno grosseto 97 milioni ne mancano ancora 483 qui è il conto totale della spesa per realizzare questa grande per terminare questa grande incompiuta che dovrebbe finalmente allacciare il collegamento tra i due mari adriatico tirreno emergenza incendi task force dei boschi e aumento dei fondi la giunta regionale ha approvato il nuovo programma per tenere sotto controllo i rughi che si accendono così per l'estate in modo particolare nelle aree boschive del territorio l'assessore aguzzi mezzo milione è un accordo con i vigili del fuoco e della protezione civile soprattutto per svolgere un'opera preventiva uno scudo contro il falso ma resta alta la guardia contro le griffe tarroccate i dati nazionali sulla contraffazione collocano le marche in una posizione marginale si susseguono però le segnalazioni di prodotti copiati e poi venduti nella piazza illegale e qui e qui vediamo come le forze dell'ordine sono sempre attente nel vigilare per quanto riguarda il commercio dei prodotti tarroccati veniamo al primo piano di pesaro e vediamo come la giunta comunale si interessa soprattutto del restauro della ristrutturazione siamo ormai a fine campionato del benelli dello stadio benelli comune il risico dei fondi e il bilancio che deve fare i conti anche con le super bollette ovviamente quello che crea problemi alle famiglie crea problemi anche all'amministrazione comunale perché poi le entrate difettano sia dall'una che dall'altra parte sono quasi 600 mila euro di maggiori spese già previste per il consumo di energia elettrica comunque dopo l'annuncio del ritorno di mister sassarini per quanto riguarda la vis pesaro questa volta il consiglio comunale dovrebbe votare la variazione di bilancio con l'applicazione della quota di avanzo di amministrazione nei capitoli di spesa in cui rientra anche la ristrutturazione del benelli e qui vediamo alcune fotografie della tribuna che dovrebbe essere ristrutturata da destinarsi al finanziamento di nuove tribune coperte per gli impianti sportivi con contestuale stanziamento di bilancio si tratta di una cifra di 610 mila euro si legge appunto nel documento e poi c'è un'altra questione quella dei ponti quel ponte cade a pezzi un rischio per i residenti e il pressing di gambini esponente di prima cepesaro per via del rio a santa veneranda sono passati ormai due anni eppure il ponte su questa strada seppure di dimensioni ridotte attende ancora l'avvio degli interventi promessi nel pre pandemia dall'amministrazione comunale torna così ad insistere a stimolare l'amministrazione comunale appunto gambini che fa parte di prima cepesaro per far sì che questi lavori finalmente si compiano insomma si attende ormai da troppo probabilmente la giunta ha dimenticato questo ponticello appunto a santa veneranda il mare continua a mangiarsi la spiaggia i turisti li mandiamo sul tetto degli hotel è una dichiarazione uno sfogo dobbiamo dire di corsini dei bagni primavera dopo che le onde hanno cancellato diverse file di ombrelloni ed è bastata una ammareggiata quella di sabato scorso quando la provincia di pesaro è stata al centro di un fortunale con pioggia intensa qui vediamo appunto il mare che lambisce la prima fila la prima e la seconda fila degli ombrelloni l'erosione avanza se non si pongono le scogliere se non si fa la difesa della costa ovviamente queste concessioni balneari sono sempre più a rischio e quindi lo sfogo appunto dei concessionari di spiaggia pesa lo studi corsi e riapertura è iniziato il conto alla rovescia si è parlato dei corsi universitari che si terranno a pesaro durante il festival della comunicazione che si è svolto nei giorni scorsi a palazzo gradari con la presentazione da parte dei referenti della università politecnica delle marche dei nuovi corsi universitari che partiranno entro metà settembre nel complesso edilizio di palazzo gradari che dovrà essere risistemato e parzialmente adeguato con inizio del nuovo anno accademico oltre che scolastico troveranno posto anche gli alunni della scuola media Liglieri che resteranno negli spazi per tutta la durata del cantiere che prevederà la realizzazione dell'ex nuovo dell'ex scuola media di Soria insomma uno spostamento necessario per eseguire i lavori e vediamo il sindaco Palmiro Chielli in questo articolo che riguarda Vallefoglia a enunciare tutti i lavori che ha caratterizzato la propria amministrazione nel corso degli ultimi otto anni tanti sono stati progetti realizzati e in quest'articolo ne vediamo diversi otto anni intensi e positivi dice il sindaco Palmiro Chielli in cui è stato fatto tanto per creare la nuova comunità cittadina a partire ad esempio dalle scuole compresa l'emergenza scolastica a seguito della frana che ha interessato la scuola di via Leonardo da Vinci a Montecchio con la costruzione in soli 72 giorni del nuovo plesso Federico da Montefeltro in via Montecatria e poi altri interventi che hanno riguardato l'edilizia scolastica sono stati poi la messa in sicurezza antisismica di tutte le scuole l'ampliamento della scuola dell'infanzia di Bottega con la costruzione della nuova palestra comunale Palafoglia Sesto On The Day e poi abbiamo tanti altri interventi nel settore dello sport della cultura, del tempo libero anche interventi in campo sanitario con l'apertura della nuova casa della salute di Montecchio e poi lavori per quanto riguarda la sede municipale e l'auditorium per la musica Bottega che costituiscono un po' due gioiellini del comune di Vallefoglia a Urbino, a Urbino si parla sempre della festa del Patrono San Crescentino torna il corteo e il giorno dopo si farà un pellegrinaggio al Pelingo nei pressi del Furlo mercoledì dunque la festa del Patrono di Urbino oggi si conclude il triduo di preparazione una festa prettamente religiosa non ci sono tante altre code voglio dire di carattere profano come fiere insomma cose del genere che caratterizzano un po' il folclore di questa festa no, questa è una festa religiosa molto sentita, molto compenetrata che si festeggia, si celebra con dei riti in Duomo e poi la processione insomma così come dovrebbe essere a questo punto mettiamo da parte il Corriere Adriatico diamo un'occhiata al resto del Carlino dove vediamo che sulla pagina di Fano si parla della Lega vincono i Carlognani ma è scontro eletto come segretario Alessandro Brandoni l'area minoritaria non vota l'abbiamo detto Paolini spiega faremo ricorso al commissario regionale e poi via le auto protagonisti bambini questo articolo di spalla del resto del Carlino tante famiglie arrivate dall'entroterra per divertirsi con i propri figli in Viale Gramsci chiusa al traffico ebbene un pomeriggio da favola per tanti bambini che ieri hanno avuto solo l'imbarazzo della scelta per trovare il gioco preferito e ce ne sono state veramente tante le proposte un incidente si ritrova il cassonetto in Giardino è successo a causa del fuoristrada di un 22enne che dopo l'incidente uscendo di strada con la propria auto è rimasto inleso abbiamo visto come la dinamica è stata espressa anche dal Corriere Adriatico vediamo ora le pagine pesaresi del resto del Carlino che oggi ha un'edizione un po' contratta in quanto non ha la solita edizione pesarese ma insomma un'edizione regionale comunque ci sono alcune pagine che riguardano il nostro territorio cabine sfondate caos notturno i bagnini denunciano intollerabile è stata una notte brava quella tra il sabato e la domenica a causa di una festa che si è svolta in un locale nei pressi del lungomare ebbene i ragazzi un po' esaltati qualcuno aveva bevuto anche di più si sono sfogati poi sul lungomare vandalizzando le strutture balneari in Viale Trieste una notte da leoni per centinaia di minorenni nelle spiagge danni e disagi chiediamo i controlli lo scempio ripreso dalle immagini delle telecamere private insomma porte di cabine sfondate tentativi di forzature di ingressi al bar mozziconi di sigarette dappertutto bicchieri di birra rovesciati per non parlare degli impellenti bisogni fisiologici che qualcuno ha sfogato insomma di fronte alle strutture del mare capanni, strutture, sedi insomma è uno scenario indecoroso che ha spinto i concessionari degli stabilimenti a elevare la propria protesta e appunto elevare la denuncia Massimo abbiamo Marco il collegamento ah benissimo ora abbiamo il nostro direttore in collegamento che ci fa visita nella nostra rassegna stampa pronto Marco? buongiorno Massimo buongiorno buongiorno Massimo buongiorno e telespettatori che stanno seguendo la rassegna stampa in questo momento soltanto qualche minuto Massimo ti voglio rubare per dirti che se vuoi domani puoi riposare da domani qualche giorno puoi riposarti vorrei tornare a condurre un po' la rassegna stampa il commento alla stampa e quindi come dire dati la possibilità anche di prendere un po' fiato visto che è tirato lungo dal 15 di ottobre dell'anno scorso è stata una bella tirata quindi domani mattina alle 7 tenteremo di rifare la rassegna stampa il commento alla stampa e lo farò anche un po' con emozione perché insomma sono sette mesi e mezzo che non apro un giornale e quindi insomma si ritorna un po' spero alla normalità benissimo Marco allora ti auguro anche te un buon lavoro noi comunque con i nostri ascoltatori magari poi ci alterneremo nel corso delle prossime settimane comunque bentornato e tanti auguri di buon lavoro grazie Massimo grazie per tutto quello che hai fatto grazie sì a questo punto abbiamo terminato la nostra rassegna stampa abbiamo letto le notizie più importanti quindi l'appuntamento domani alle ore 7 con Marco Ferri per quanto riguarda la rassegna stampa di Fano TV grazie per l'ascolto a risentirci grazie a tutti grazie a tutti